Conclusi gli interrogatori delle tre persone coinvolte nell'inchiesta sul presunto voto di scambio nel Siracusano in occasione delle ultime elezioni regionali. Si tratta di Pippo Genuso, Francesco Gian Blanco e Massimo Rubino. Una pioggia di soldi per la provincia di Ragusa arriva dalla riunione notturna della Commissione Bilancio a Lars. Si tratta di un emendamento presentato da Di Pasquale. Le somme potrebbero essere ridotte. La polizia ha identificato il secondo presunto malvivente della rapina a Modica Alta ai danni di un bar. Si tratta di un albanese e ora ha ricercato il reato furto aggravato in concorso. Cerimonia di intitolazione della stazione dei carabinieri di Ragusa Ibla alla medaglia d'oro al valore civile all'appuntato dei carabinieri Giorgio Scifo, Modicano caduto in servizio. Domani ultimo atto della stagione in promozione per il Modica Calcio che sfida in casa allo Sporting Augusta. Fischio d'inizio alle 16.30. I Rosso Blu vogliono salutare i tifosi con una vittoria. Ben trovati con l'informazione di Canale 74. Apriamo oggi questo Tg occupandoci del nuovo pronto soccorso del Maggiore di Modica inaugurato proprio oggi. Una sorta di blitz del sindaco Ignazia Abate del direttore sanitario Piero Bonomo per il taglio del nastro del nuovo pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Modica. I locali sono stati aperti poco dopo mezzogiorno. Il pronto soccorso aveva ottenuto la settimana scorsa l'ultimo nulla a osta da parte dei vigili del fuoco che avevano certificato la correttezza dei lavori effettuati. È stata poi la volta degli ultimi adempimenti burocratici che hanno permesso di rompere gli indugi sull'operatività dell'importante presidio di emergenza che adesso è uno dei più moderni dell'intero mondo sanitario regionale. Raggiunto questo obiettivo fondamentale per il comprensorio di utenza che abbraccia anche alcuni comuni del Siracusano bisognerà accelerare sulle richieste alla regione per dotare il pronto soccorso del Maggiore di nuovo personale medico ed infermieristico. Ma adesso cambiamo argomento e ci occupiamo del voto di scambio nel Siracusano. Conclusi gli interrogatori delle tre persone coinvolte nell'inchiesta. Si sono conclusi gli interrogatori delle tre persone coinvolte nell'inchiesta sul presunto voto di scambio politico mafioso nel Siracusano in occasione delle ultime elezioni regionali. Dopo l'interrogatorio del deputato regionale Giuseppe Gennuso, il quale ha negato tutte le accuse formulate dalla direzione distrettuale antimafia di Catania, è stata la volta di Francesco Giamblanco, di 31 anni, genero del boss di Avola Michele Carpula. Giamblanco è stato arrestato lunedì scorso da Carabinieri di Siracusa insieme a Gennuso, di 65 anni, e a Massimo Rubino, di 49 anni. Giamblanco, unico dei tre detenuto in carcere, è stato sottoposto ieri all'interrogatorio di garanzia per rogatoria del GIP Tribunale di Siracusa, Carmen Scapellato, e indicato dai magistrati della DDA di Catania come referente del clan che avrebbe incassato dal parlamentare regionale 50 euro per ciascuna preferenza. L'intermediario tra Lacosca e Gennuso sarebbe stato, secondo gli inquirenti, Massimo Rubino, che, già sentito dal GIP di Catania, ha preferito non rispondere alle domande. I legali dei tre indagati hanno annunciato ricorso al Tribunale del Riesame di Catania. È irreperibile il secondo presunto autore della rapina modicalta ai danni di un bar. La polizia lo ha però identificato. Si tratta di un cittadino albanese. È irreperibile il secondo presunto autore della rapina modicalta ai danni di un bar. La polizia lo ha identificato. Si tratta di un cittadino albanese. L'uomo però, deferito per furto aggravato in concorso, risulta irreperibile. Il primo rapinatore è stato arrestato poche ore dopo il colpo. L'uomo, peraltro, era solito frequentare il locale. I fatti risalgono alla scorsa settimana. Il titolare del bar è stato minacciato con pistola e coltello. 800 euro circa la cifra portata via al commerciante. Fondamentale è stato il sostegno del commerciante rapinato che ha fornito elementi utili all'identificazione dei due malviventi. Emendamenti milionari presentati da Di Pasquale a favore della legge su Ibla e sull'aeroporto di Comiso. Solo 50 mila euro invece per l'ex tribunale di Modica. Una pioggia di soldi per la provincia di Ragusa arriva dalla riunione notturna della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana. Le indicazioni della Commissione adesso dovranno passare all'esame dell'Aula in sede di discussione del bilancio. Qui le somme previste rischiano però di subire una notevole sporbiciata. Tra gli emendamenti presentati, come informa una nota del parlamentare ragusano del PD Nello Di Pasquale, quelli che riguardano il finanziamento della legge su Ibla, un milione di euro, la tutela del patrimonio monumentale del Val di Noto e di aree archeologiche siciliane, 10 milioni, l'aeroporto di Comiso, un milione e 320 mila euro. Tra le proposte avanzate da Di Pasquale, anche una somma a favore del Tribunale di Modica. Si tratta di appena 50 mila, certamente non sufficienti, ad accedere alla Convenzione Stato-Regione per la riapertura del Tribunale di Modica. A che cosa dunque potrebbe servire una somma così esigua? Lo abbiamo chiesto allo stesso Di Pasquale. Questo serve sul Tribunale di Modica, c'era una pietra tombale. Questo qui mette in condizione il Tribunale di Modica, così come quello di Midossi e di Vincletta, e rimettersi di nuovo in circolo. Poi vedremo se sono sufficesi, se non sono sufficesi, ma intanto c'è una norma. Poi casomai rimpinguarli è cosa diversa. Si è svolto ieri a Catania il primo congresso regionale della Confederazione Sindacale Confali, che riunisce decine di federazioni sindacali in un'unica sigla. Vediamo i risultati del congresso. Si è svolto ieri a Catania il primo congresso regionale della Confederazione Sindacale Confali, che riunisce decine di federazioni sindacali in un'unica grande sigla, con il titolo Il lavoro senza sé e senza ma. Molti lavoratori che insieme ai dirigenti sindacali siciliani sono intervenuti, chiedendo al neoeletto segretario regionale Maurizio Grosso, di portare nelle sedi istituzionali opportune le molteplici richieste, dalla stabilizzazione dei forestali, alla limitazione delle aperture dominicali dei centri commerciali, dalla regolarizzazione dei contratti dei dipendenti del call center, alla tutela dei lavoratori del terziario e servizi. Questi sono alcuni dei punti inseriti nella relazione finale del congresso, poi approvata all'unanimità dai presenti e presa in consegna dal segretario generale Maurizio Grosso, che se ne farà portavoce nei confronti del governo regionale. Per consentire ai lavoratori che rappresentiamo di recitare un ruolo di primo piano in termini di diritti e di libertà, nonostante gli ostacoli della globalizzazione. Chi lotta con noi può vincere, chi non lotta ha già perso. Grazie per l'attività. Eletto anche il consiglio direttivo ed il gruppo dirigenziale dell'organo sindacale regionale, formato da 13 componenti, ed il segretario generale ha aggiunto il modicano Giorgio Iabichella, anche egli votato all'assemblea. E' un parerlo con scuola, anche qui. Ci spostiamo adesso a Modica per occuparci dei lavori in corso e in corso Umberto. Si tratta dell'ampiamento della zona pedonale. Nel centro storico di Modica, un cantiere aperto per la sostituzione nel tratto di piazza Municipio, Duomo di San Pietro, delle pedane in legno con basole di pietra modicana. I lavori, assicurano dal comune, saranno conclusi celermente e quindi i disagi dovrebbero essere limitati. Ma se alcuni commercianti ritengono buona l'iniziativa, altri sostengono che sarebbe stato opportuno realizzare queste opere in un periodo diverso, senza scontrarsi con il notevole flusso turistico che si registra in questi giorni in città. Lo sostiene ad esempio Garbilla Modica, titolare di un locale per la ristorazione. Non era questo il momento, ci ha dichiarato a telecamera spenta, anche perché ci sono molti turisti e stiamo lavorando bene. Sarebbe bastato fare questi lavori a gennaio o a febbraio per non creare alcun tipo di disagio. C'è comunque anche chi considera i lavori un fatto positivo. Che è una cosa buona qua per Modica, per i commercianti e per chi vuole passeggiare, perché diamo più spazio al cittadino. Una volta ultimati i lavori, la cui celerità potrebbe far pensare ad una coincidenza con la campagna elettorale, bisognerebbe mettere mano ad una regolamentazione della circolazione in questo tratto di Corso Umberto da restituire ai cittadini e ai turisti. Intitolata la caserma dell'arma di Ragusa Ibla, Giorgio Scifo, l'appuntato modicano è caduto in servizio. C'era per noi Giorgio Fratantonio. Alla presenza di autorità militari, civili e religiose, cerimonia di intitolazione della stazione dei carabinieri di Ragusa Ibla alla medaglia d'oro al valore civile appuntato dai carabinieri Giorgio Scifo, modicano caduto in servizio. Sono stati tributati gli onori militari dal comandante interregionale dei carabinieri generale di corpo d'armata Luigi Robusto, presenti anche i figli del caduto. Ad arricchire la cerimonia, la fanfara dei carabinieri di Palermo. Momenti toccanti e significativi sono state la consegna della bandiera al comandante della stazione da parte del sindaco di Ragusa Federico Piccitto e dalla figlia del caduto Concetta Scifo ed è stata benedetta dal Vescovo di Ragusa, Monsignor Carmelo Cuttitta. Ravvive noi, Signore, nel segno dell'acqua benedetta, il ricordo del nostro battesimo e la nostra adesione a Cristo Signore, crocifisso e risolto per la nostra salvezza. Amen. Si è in seguito proceduto alla scopertura della lapide che sarà posta a futura memoria. Abbiamo sentito i maggiori protagonisti della giornata. Io sono emozionatissima, però onorata di essere qui e aver partecipato a questa manifestazione. E poi dovremmo anche ricordare che suo papà era modicano. Sì, lui era di Modica e io ho sempre questo affetto verso questa terra perché non sto qui a Modica, io sto a Barcellona, quindi io ho sempre il richiamo, nelle mie venne scorre sempre il sangue modicano di mio padre. Bellissima cerimonia in un contesto che è sempre favoloso, aiutati anche dal meteo oggi, per un momento importante nel quale celebriamo un nostro caduto, un nostro eroe, è un eroe figlio di questa terra che purtroppo ha trovato la morte nell'adempimento del proprio dovere su al nord, in provincia di Vicenza. Ma questa attestazione rimarrà per sempre, fino a quando rimarranno i carabinieri a Ragusa Ibla. Un figlio di questa terra, modicano per l'esattezza, ma che come tutti i carabinieri è andato in giro, ma le radici sono importanti ed è importante che la propria terra lo ricorda. Soprattutto per Giorgio Scifo, l'ha puntato Giorgio Scifo che era rimasto molto legato alla sua terra e non aveva mai abbandonato completamente il desiderio e l'obiettivo di tornarvi per stabilirsi, per operare e per ricongiungersi ai suoi effetti. È un carabiniere che ha assolto bene il proprio compito, soprattutto penso perché ha creduto fortemente e intensamente nel dovere di servire lo Stato, la Patria, di servire certi ideali, certi principi, per il quale è stato sicuramente formato prima di tutto in famiglia e poi anche da noi. È bello ritrovare questi valori da sempre nei carabinieri, come nei carabinieri di ieri e anche nei carabinieri di oggi. Sono stimoli per credere che sia giusto credere in questi valori. Sono esempi di vita per tutti, a cominciare da noi. Sono anche moniti al tempo stesso per tutti noi, per quelli che semmai hanno paura, per quelli che non credono, per quelli che hanno smesso di sognare. Perché forse è proprio mentre si sogna che si sbatte contro qualcosa che ti vorrebbe far cadere, ma se si continuasse a farlo, forse si vivrebbe in un mondo migliore, perché i sogni possono fare di tutto, ma non possono cancellare i sogni. E un uomo che crede in questi valori, io penso che sia stato e che sia un uomo che ha degli ideali molto grandi. Ancora ben trovati. Sarà ospitata nel Museo Casa Natale di Salvatore Quasimodo la mostra di Silvio Zampieri. La mostra sarà inaugurata il 24 aprile. Sarà ospitata nel Museo Casa Natale di Salvatore Quasimodo di Via Posterla a Modica la mostra di Silvio Zampieri. L'occasione è data dal cinquantesimo anniversario della morte del Nobel Modicano ed è stata promossa dall'Associazione Proserpina Modica e dal Parco Letterario Salvatore Quasimodo. La mostra sarà inaugurata il 24 aprile e si potrà visitare fino al 17 giugno. Dal 20 giugno le opere di Silvio Zampieri saranno invece ospitate fino al 7 settembre a Roccalumera. Silvio Zampieri è esponente del movimento neochiarista ed ha tratto ispirazione per le opere esposte da un verso di Quasimodo. Per me c'è l'ombra che è la mia luce. Si tratta di 50 opere tra dipinti e carte e studi preparatori debitamente lavorati per l'evento internazionale che descrivono e argomentano la poesia del Nobel. Nel catalogo figura anche un testo del figlio di Quasimodo Alessandro ed uno dello stesso artista. Il critico Carlo Franza nella presentazione del catalogo scrive che dipinti hanno una bella resa atmosferica, toniretti da una struttura di solido impianto e un'immagine che tende alla dilatazione oltre i limiti della tela. Evidente e chiaro il mondo della Sicilia, della natura, dei luoghi cari a Quasimodo pure attraversati dal mistero dell'esistente attraverso il filtro della memoria. Condizione ultima a Zampieri per un aggancio con le cose, con quel mondo, per il formarsi di un'immagine che sia vera. 500 e non sentirli è il titolo del primo concorso di eleganza in Fiat 500 organizzato per domenica alla Fiera del Sud a Siracusa. Domenica 22 aprile dalle 9.30 alle 16 tutti in 500 al centro commerciale Fiera del Sud di Siracusa. Prima edizione del concorso di eleganza 500 e non sentirli. Una passerella delle mitiche Fiat 500 e derivate che si contenderanno i premi per la più vintage, la più elaborata, la più originale, la più sfiziosa e la più pregiata. A valutare il fascino di queste mitiche quattro ruote una competente giuria. L'evento sarà arricchito dalla preziosa presenza delle modelle di modella TV abbigliate nel più puro stile degli anni che furono. Auto e pin-up saranno anche le protagoniste dello shooting fotografico per fotografi accreditati e non solo. L'evento organizzato da Autoservizi Roll Service di Gianni Formica è totalmente gratuito e aperto a tutti. Ci spostiamo adesso ad Acate per i tre giorni di intensi festeggiamenti in onore di San Vincenzo Martire. Per tre giorni a partire da venerdì 20 aprile Acate festeggerà il proprio protettore San Vincenzo Martire Diacono di Saragozza. Fede, spettacolo e folclore si fonderanno in tutt'uno richiamando nella cittadina migliaia di forestieri provenienti da tutti i centri limitrofi. Anche quest'anno, ha sottolineato il sindaco Franco Raffo, grazie all'impegno di tutti e soprattutto dai volontari, di coloro che amano la tradizione, la storia e hanno a cuore il bene di Acate, si è predisposto a un programma di tutto rispetto anche in considerazione del forte richiamo del nostro santo. Tra tutti gli eventi in programma, un ruolo fondamentale sarà ricoperto dallo spettacolo equestre, che da sempre affascina, senza fare assolutamente rimpiangere la mancanza del palio, potenzialmente fattibile, ma non più su corso indipendenza, in idonio, a rispetto delle disposizioni delle leggi in materia. Lo stesso corso indipendenza, quindi opportunamente transennato per la tutela di chi esibisce e degli spettatori, vedrà sfilare nel corso dei tre giorni dei festeggiamenti, splendidi cavalli, bande e gruppi folcloristici. Ma la ciliegina sulla torta sarà rappresentata dal primo galà di cavalli americani, che si terrà sabato pomeriggio e domenica mattina in piazza Matteotti. Passiamo adesso allo sport, ci occupiamo di calcio, promozione. Il Modica ospita lo Sporting Augusta. I Rosso Blu vogliono salutare i tifosi con una vittoria. Ultimo atto della prima stagione in promozione per il Modica Calcio, di Franco Rappocciolo domenica pomeriggio al Vincenzo Barone. I Rosso Blu del presidente Bombo Carpentieri saluteranno i propri tifosi ospitando lo Sporting Augusta. Una sfida che non ha nulla da chiedere alla classifica. Modica e Sporting sono ormai tagliate fuori dalla corsa a playoff e hanno tenuto in larghissimo anticipo. La salvezza, ma i tigrotti della Contea vorrebbero chiudere con un successo per confermarsi come sesta forza del torneo e per dare l'arrivederci ai propri sostenitori con un altro successo casalingo. Contro i neroverdi augustani, Rappocciolo avrà ancora molti atleti in infermeria e darà spazio a chi ha giocato meno durante la stagione senza tuttavia snaturare l'assetto tattico. Tornano a disposizione del tecnico Marco Livi e Salvatore Campailla che hanno scontato il turno di squalifica mentre resterà sicuramente ai box Totò in Cardona. Da valutare invece le condizioni di Giulio Sarta. Questo gruppo ha dichiarato il tecnico del Modica, ha dimostrato un grande attaccamento alla maglia e alla città e lo farà anche contro lo Sporting Augusta anche se la partita è quasi ininfluente per la classifica. Credo che si possa ripartire da questi splendidi ragazzi che hanno lavorato per tutta la stagione a testa bassa e senza risparmiarsi e con loro programmare un futuro che con qualche puntello potrà regarare alla città un futuro da protagonista. La gara con lo Sporting Augusta sarà diretta dal siracusano Giuseppe Campisi che sarà coadivato dagli agrigentini Roberto Drago e Antonino Giambrone. Calcio d'inizio fissato per le 16.30. Ci occupiamo adesso dell'innovativa disciplina sportiva, il baskin. Il fiero progetto è portato avanti dall'Istituto Giovanni XXIII di Vittoria. A condividerlo anche sindaco e delegato allo sport. L'innovativa disciplina sportiva baskin fa sentire uguali. L'intento è quello di promuovere una nuova cultura dello sport orientata all'integrazione tra persone normodotate e persone diversamente abili. Questo è il fiero progetto approvato e lanciato dall'Istituto Giovanni XXIII di Vittoria dove gli obiettivi centreranno i problemi sociali, educativi e paritari. Per questo motivo il primo cittadino Giovanni Moscato insieme al delegato allo sport Stefano Frasca hanno accolto partecipando attivamente il progetto che mira la pratica innovativa e particolare denominata baskin. Molti punti strategici da attuare che segnano l'impegno sancito è piena conclusione degli studenti con disabilità, collaborazione allo sviluppo della stessa inclusione e incentivare iniziative di attività motoria, sportive ecc. Questo istituto e i referenti con i professori Piccione Maria Rita, Fontanella Maria e Ruggero Silvio hanno voluto fortemente mettere in campo le proprie risorse sposando l'iniziativa che ha trovato l'adesione dell'amministrazione comunale con favorevole entusiasmo, partecipando come partner dando il contributo attraverso l'acquisto delle maglie da utilizzare per il grande esordio che avverrà giorno 9 maggio ad Avola. Era questa l'ultima notizia. Non ci sono aggiornamenti, vi ringrazio per averci seguito. Vi ricordo il nostro sito www.canale74.it Vi auguro una buona continuazione con i nostri programmi.